25 euro gratis per comprare NFT o comunque criptovalute. BuddyBank, come spesso fa, se ne è uscita con una promozione dove creando un conto utilizzando il codice invito di qualcuno che possiede già un conto presso quella banca permette di avere entrambi 25 euro bonus. 25 euro che saranno accreditati nel conto, tempo qualche giorno dalla richiesta, questo dato la mole di richieste che BuddyBank riceve ogni volta che fa una promozione del genere. Questa carta con 25 euro al suo interno poi potrà essere utilizzata per comprare criptovalute direttamente da exchange come Binance e se volete sapere come fare vi lascio questo video nelle schede e in descrizione dove spiego come comprare criptovalute su un exchange come Binance. Però volendo potrete comprare queste criptovalute direttamente da Metamask. Per farlo però vi servirà scaricare Metamask in caso voi non ce l'abbiate già e poi creare un account. Per scaricare Metamask ricatevi nel link che vi lascio qui sotto in descrizione e cliccate sulla voce download. In base al browser che state utilizzando installatela per quel browser. Una volta scaricato vi apparirà quest'icona qui in alto ma se non dovesse apparire basterà cercare in tutte le estensioni e sicuramente si troverà lì. Ovviamente voi dovrete aprirlo ed essendo la prima volta dovrete anche creare un wallet. Vi darà una seed phrase con tantissime parole che voi non dovrete condividere con nessuno e possibilmente dovreste salvarle su carta invece che sul computer. E come vedete anche se io utilizzo Metamask da tantissimo tempo ogni tanto arrivano questi messaggi che ti ricordano di non condividere con nessuno la secret recovery phase. Una volta però creato l'account come faccio ad importarci dei soldi? In caso aveste comprato direttamente da Binance come il video che vi ho lasciato in descrizione e nelle schede basterà copiare questo indirizzo e da Binance fare un transfer di magari Ethereum a questo indirizzo. Mentre invece se voleste comprare direttamente su Metamask utilizzando BuddyBank basterà andare su compra, scegliere il metodo di pagamento come Coinbase Pay, Transac, MoonPay o tutti questi altri. Io le poche volte che l'ho fatto ho utilizzato MoonPay. Cliccate continue to MoonPay. Vi porterà questa schermata, voi decidete qual è il corrispettivo in euro che volete comprare di ETH. Cliccate su continua, inserite una mail, inserite il codice che verrà inviato a questa mail, accettate i termini e cliccate su continua. Inserite tutti i dettagli di base della vostra persona e cliccate nuovamente su continua. Mettete eventualmente l'indirizzo di fatturazione e quando la verifica sarà completata come in questo caso dovrete inserire la carta di credito o debito oppure il bonifico bancario che però ci metterà più tempo. E semplicemente poi i soldi saranno sottratti da quella carta ed aggiunti a Metamask. Ci tengo a ricordarvi però che essendo Metamask un portafoglio del quale detenete le vostre chiavi private dovete fare assolutamente attenzione a tutto quello che fate con questo Metamask e a quali siti lo collegate. Perché se doveste collegarvi ad un sito malevolo questo potrebbe semplicemente rubarvi tutti i soldi. In questo video ti spiego come tenere Metamask il più al sicuro possibile. Mi raccomando guardalo per essere sicuro di star facendo tutto nel modo corretto. Per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima e ciao!